la spocchia la spocchia di qualche personaggio interista la spocchia stiamo tremando di paura abbiamo tanta di quella paura sto vedendo dei video dove mettono le bombette gli interisti e poi scrivono è arrivato Dybala tremate arriva Lukaku tremate la spocchia di alcuni tifosi nero azzurri io vi dico una cosa continuare a elogiare queste cose anche se non sono ancora arrivati però continuare a dire siamo forti quest'anno è sintomo di debolezza è sintomo di bruciore anale la spocchia far vedere che state prendendo questo quell'altro quella è sintomo di bruciore anale ricordatevi due cose la prima è che i campioni d'italia in questo momento siamo noi la seconda interista chiacchierone parla sempre a inizio stagione a Aaaaaaaaaaaaaa